Musica Ma domenica è stata una partita a dire giocata bene e riduttiva Perché abbiamo fatto 90 minuti molto importanti Purtroppo è mancato il risultato Sì sì ma guardare la classifica a ottobre penso che non porti a niente Perché siamo 10 squadre su 6 punti ho visto Quindi è molto riduttivo Bisogna pensare a noi, bisogna pensare giorno per giorno A lavorare bene qui al campo gli allenamenti E per preparare bene le partite da domenica Ma guarda ci stiamo amalgamando piano piano tutti insieme Perché siamo una squadra importante Siamo una squadra fatta di gente nuova Devo essere sincero abbiamo fatto 8 partite E abbiamo fatto sempre la prestazione Purtroppo abbiamo perso 3 partite Che su 8 partite sono tante Bisogna andare di più Ecco sì guarda domenica è una partita secondo me Molto più difficile di quella col Perugia Perché preparare le partite diciamo con squadre di Blasone come Perugia Nulla togliere a Limolese Ma sono le partite più difficili Più insidiose Quindi bisogna andare là con la mentalità giusta Perché il campionato di Serie C è molto difficile Soprattutto quando incontri queste partite L'allenatore è molto importante Ma noi pensiamo a noi A far bene noi Perché abbiamo bisogno di punti Abbiamo bisogno di rifarsi da questa sconfitta E di intraprendere un cammino molto importante E di intraprendere un cammino molto importante